Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il veterinario. Questa sera qua alla Zampa parliamo dell'insufficienza renale nel gatto. Gatti di qualunque età possono essere colpiti da questo problema ma è sicuramente più frequente riscontrare l'insufficienza renale nei gatti anziani. L'insufficienza renale può essere dovuta a infezioni, a varie malattie, a ipertensione, ai calcoli soprattutto nel gatto maschio e abbiamo diverse cause che possono portare all'insufficienza renale. Come potete sospettare se il vostro micio ha qualche problema ai reni? Innanzitutto tende a perdere l'appetito, tende a dimagrire, a bere parecchio, a essere meno attivo rispetto a prima, avere magari anche da disenteria o comunque sintomi come anche il pelo opaco. Il gatto in qualche modo non sta molto bene, comincia a in qualche modo manifestare della sofferenza. Il veterinario innanzitutto farà un esame fisico, dovrà fare comunque anche un esame del sangue e un esame dell'urine che potranno determinare se esiste l'insufficienza renale. In pratica i reni non sono più in grado di depurare il sangue dalle sostanze tossiche e il gatto comincia a soffrire proprio di intossicazione per malfunzionamento dei reni. Per capire poi da cosa è dovuta e quale sia la causa dell'insufficienza renale potrebbero essere necessarie altri esami come delle radiografie o delle biopsie, quindi prelevare del tessuto o delle ecografie. In questo modo si potrà determinare il perché c'è questa insufficienza renale. Un ruolo importante è dato dai proprietari che dovranno occuparsi oltre che seguendo una terapia di farmaci ma anche dell'alimentazione. Esistono delle alimentazioni ben studiate che non risolveranno il problema, non cureranno l'insufficienza renale ma permetteranno al gatto di sopravvivere molto meglio riducendo i sintomi. Per cui se avete un gatto anziano e che comincia a perdere il solito sprint o la solita allegrezza, portate al veterinario, chiedete anche di verificare se potrebbe essere anche un'insufficienza renale in modo da poter intervenire precocemente e aiutarlo sia con una terapia ma soprattutto con la giusta alimentazione in modo che potrà farvi compagnia ancora molto a lungo. Per questa sera è tutto, vi do appuntamento la settimana prossima, arrivederci!